Allora fuma sono facilissimi, vanno dai 5 ai 10 anni Eh la madonna, io c'ho da fare Allora, ha quattro gambe ma non cammina Cos'è? Un cane handicappato Un orso handicappato Il tavolo, fuma, il tavolo Si spoglia quando arriva il freddo Chi è? Beh un coglione L'albero, cosa accadono in autunno? Eh le palle, non c'è mai un cazzo da fare in autunno Le foglie, le foglie dagli alberi Pure le palle però Se parli, se parli, se parli lo rompi Cos'è? Il cazzo Silenzio, silenzio Silenzio è la risposta Ce l'ho io un indovinello Sentiamo Allora, è un'esperienza eccitante Però per salirci sopra prima devi fare la fila Una giosta No, tua madre